Tradire è sempre sbagliato, ma ormai studi recenti dicono che il tradimento è presente nel 40% delle coppie sposate, quindi parliamone un attimo. In questi anni ho sentito una marea di storie sui tradimenti e quasi tutti avevano degli schemi comuni. All'inizio di solito tutto un fuoco, adrenalina, passione, poi lui comincia a promettere marie monti, dice che non ama la moglie e che la lascerà, ma non lo dice perché è pronto per mantenere questa promessa, soprattutto se significa cambiare drasticamente la propria vita, figurati se ci sono in mezzo dei figli, no, lo dice per tenerti ancorata a lui, per mantenere vivo l'interesse. Tu sei comprensivo all'inizio, va bene non mettere troppa pressione, ma la situazione quasi sempre diventa stagnante e può durare anche anni, dove lui promette, 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 ma non fa mai nulla. Cosa succede? Che dopo tutti incazzi, vi lasciate, poi vi riprendete, ma se noti è sempre l'uomo che poi decide, riapare, scompare e un momento vuole passarlo con la moglie perché si rende conto di aver sbagliato e poi vuole l'adrenalina e vuole rimettere la testolina fuori, ma tanto la sa che tu sei lì che lo aspetti. Se continui a permetterglielo, non farai altro che rendere ancora più difficile la decisione di lasciare la moglie e non lo farà mai. Grazie per la visione!